Sono tornati a Riva dopo una notte di lavoro sul relito della Concordia, l'ultima all'isola del Giglio, sono stati accolti con lunghi applausi ed urla un gruppo di operai della Titan Mico Peri, il consorzio che si occupa della rimozione del relito, fra le decine di turisti che hanno seguito le ultime fasi dell'operazione. Il gruppo di operai è salito sul mono ricambiando gli applausi con urla e braccia alzate e poi brindando con due bottiglie di spumante. Siamo contenti di aver fatto parte di questo grandioso progetto, hanno detto, ma quello che ci è piaciuto di più è stato il Giglio e poi ridendo, e le italiane. Quella di oggi è la liberazione di un ingombro, ha detto il sacerdote dell'isola del Giglio, Don Lorenzo Pasquotti, che stamani è uscito in mare per dare l'ultima benedizione al relito, ma soprattutto in memoria delle 32 vittime del naufragio e del sub morto sul lavoro. Al ritorno a terra ha suonato le campane. Grazie. Grazie.